L'inflazione in Europa cala e le scorte di petrolio iniziano ad essere abbastanza interessanti. Buongiorno a tutti, io sono Vincenzo Penna di investire.piz e questa è Caffè Mercati. Quindi buongiorno a tutti, buon caffè e ovviamente ben ritrovati per chi ci segue tutte le mattine. Anzi, ve lo ricordo, visto che la maggior parte di voi, più del 50%, non è ancora iscritto al canale, male, 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 trovate qui sotto tutto quello che vi serve sia per iscrivervi che ovviamente per mettere like e commentare. Soprattutto, mi raccomando, commentate perché ci aiutate a capire un po' cosa vi va bene, anzi, ci date anche parecchie, spesso, degli spunti di analisi abbastanza interessanti. Quindi mi raccomando, lasciate un commento qui sotto. Tornando però al grafico e soprattutto al calendario economico, che cosa abbiamo visto ieri? Ieri, mercoledì 3 aprile, è uscita l'inflazione in Eurozona che è stata al di sotto sia delle aspettative che del mese scorso. Infatti si è attestata al 2,4% per tutta l'Eurozona. Purtroppo il dato che vedete qui sopra non ci fa molto piacere a noi italiani perché la disoccupazione in Italia è leggermente aumentata dello 0,2% rispetto al mese scorso, però vabbè, vediamo un po' come si metterà nei prossimi mesi. Ciò che invece ha sorpreso abbastanza i mercati è stata la variazione dell'occupazione ADP, che vi ricordo anticipa leggermente il dato che poi sarà venerdì degli NFP. Infatti le buste paga sono state al di sopra sia delle aspettative che del mese scorso. Quindi ancora una volta il mercato occupazionale americano si dimostra essere effettivamente resiliente, anzi non soltanto resiliente, ma molto molto forte. Poi sull'indice ISM magari ci facciamo uno speciale a parte perché sono usciti dei dati abbastanza interessanti, infatti vi ho fatto il post su Telegram nel gruppo di investire.biz, anzi se non siete iscritti iscrivetevi anche al gruppo Telegram che ogni giorno condividiamo comunque una news diversa. Ciò che invece ho visto un po' di dati e mi sono stati abbastanza interessanti sono appunto le scorte di petrolio e anche quelle del natural gas. Infatti poi ve le faccio vedere adesso, trattiamo di entrambe le cose nella puntata di oggi e partirei da questo grafico qui. Questo è il grafico, ne abbiamo parlato anche nei mesi scorsi, anzi sono parecchi mesi che ne parliamo, sono le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti, le cosiddette SPR. E lo vedete che siamo su livelli di circa il 1984-85, quindi sono riserve di petrolio che il governo degli Stati Uniti ha deciso di utilizzare per far fronte appunto alla domanda degli ultimi due annetti circa. Il problema è che queste riserve prima o poi dovrebbero essere rimpinguate, ok? Che cosa è successo ieri? È successo che l'amministrazione Biden ha fatto questa dichiarazione, ha dichiarato che le SPR, cosa che invece fino a pochi mesi fa era quasi scontata questa cosa qua, dovevano essere rimpinguate ma l'amministrazione Biden ha deciso di non farlo, perché? Perché ha citato i prezzi troppo alti del petrolio. E infatti andiamo a vedere il petrolio che cosa sta facendo. Il petrolio ha raggiunto gli 85, passa dollari al barile, anzi addirittura 85,38, si è portato quindi al di là della resistenza sia settimanale che mensile e adesso si trova sulla resistenza annuale del 2022, quindi in zona 87 fino agli 88,89 dollari. Su questi livelli il governo, l'amministrazione Biden ha deciso di non comprare più per andare a rimpinguare le riserve, perché, ha detto a loro, il prezzo del petrolio è troppo alto in questo momento, quindi si riservano di farlo magari successivamente. Il problema è che, non avendo acquistato neanche 72, 70, diciamo che questa cosa ci fa storcere un po' il naso, Come si legge questa notizia? Allora, diciamo che di base la notizia potrebbe essere letta in maniera negativa per quanto riguarda le scorte, però vi faccio vedere dei dati che sono ancora più interessanti, che sono questi qui. Allora, qui in una sola diapositiva vi faccio vedere come sono messe le scorte, per quanto riguarda le diverse categorie, del petrolio. In alta a sinistra ci sono le SPR, diciamo che è paragonato l'andamento attuale, la linea in nero, rispetto all'andamento degli ultimi dieci anni, praticamente dal 2015. E vedete che, rispetto agli ultimi anni, siamo veramente sui livelli bassissimi, sia per quanto riguarda le SPR, sia per quanto riguarda la benzina per gli aerei, che è questo in alto a destra, sia per quanto riguarda proprio la benzina che si va a mettere praticamente nelle automobili, che è questo in basso a sinistra, e sia ovviamente per gli inventari totali. Siamo sui livelli più bassi mai visti degli ultimi dieci anni, nove anni praticamente. E questo ovviamente, se da una parte la notizia magari poteva essere negativa, dall'altra invece andando a vedere la totalità delle riserve, la cosa si fa abbastanza interessante. E probabilmente il prezzo attuale non è così alto come invece il governo degli Stati Uniti vuole far credere. Ovviamente, facendo testo anche la componente tecnica e quindi la componente grafica, dobbiamo andare ad individuare dei livelli chiave dai quali sapere come muoverci. I livelli chiave li abbiamo individuati come sempre tramite il nostro BizProfile. Vi ricordo che se non avete il BizProfile, vi basterà creare semplicemente un conto su drive.com.it e ovviamente capitalizzarlo per ottenere appunto l'indicatore gratuito. Le zone chiave sono le medesime, quindi sono la prima zona tra 82 dollari e 80 dollari virgola 5, che è appunto questa zona di agglomerato volumetrico, la prima zona, mentre la seconda zona un po' più distante dai livelli attuali, infatti parliamo di circa un 8-9%, è la zona compresa tra i 78 e i 76 dollari al barile. All'interno di queste zone sarà molto interessante poter valutare un eventuale posizionamento, o lungo o short a seconda dei casi, a seconda se viene rifiutata o se viene effettivamente rotta a ribasso. Quindi queste sono le zone sul VTI, sul petrolio, sul loro nero, e vedendo un po' quello che sono state le riserve, ovviamente noi siamo molto fiduciosi che ci potrebbe essere una forte domanda mondiale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Per quanto riguarda invece il natural gas, vi ricordo che le riserve del natural gas non sono ancora uscite, infatti escono oggi alle ore 16 e 30, e andremo a vedere un po' come si comporterà il natural gas, anche perché il ragionamento di base è sempre lo stesso, quindi siamo su livelli sì bassi, a livello annuale, ma siamo su livelli alti se andiamo a prendere la media degli ultimi 5 anni, e questo infatti è il grafico che ve lo fa vedere nel dettaglio. Quindi andiamo a vedere oggi come usciranno le riserve, se dovessero confermare il trend ribassista, come infatti lo stanno facendo, infatti nell'ultima settimana le riserve sono state effettivamente consumate più rispetto alle aspettative. Quindi se questo trend dovesse continuare si andrebbe un po' a filare il gap tra le riserve attuali e quelle degli ultimi 5 anni, e sarebbe una cosa ovviamente positiva per quanto riguarda la domanda futura di natural gas. Vi ricordo che siamo a livello stagionale su dei minimi, di bottom stagionale, e da qui in avanti a livello statistico, circa nell'80% dei casi, dall'inizio di aprile ovviamente dovremo avere una risalita, come anche fanno vedere le statistiche per quanto riguarda le riserve di natural gas. Quindi staremo a vedere oggi alle ore 16 e 30 come usciranno le riserve, e come sempre vi terremo aggiornati magari proprio nel gruppo Telegram di Investire.biz, che trovate come sempre qui sotto in descrizione. Quindi noi ci vediamo come sempre domani mattina tra le 9.30 e le 10, e vi auguro una buona giornata e un buon trading a tutti. Ciao! Grazie! Grazie!